La Lega sono io che difendo i valori della famiglia tradizionale. C'è la mamma, c'è il papà e nel mio caso voglio essere definita mamma e non genitore uno o due. Questa storia delle adozioni alle coppie omosessuali è una vergogna. Un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà. Punto. La Lega sono io che sono un papà e non un genitore uno o due. Difendiamo la famiglia. I figli sono il futuro. Grazie a tutti.